Ok ragazzi, rieccoci con Venom The Last Dance, ormai siamo vicinissimi, esce la prossima settimana praticamente E come vi avevo già detto, oggi, cioè ieri in queste ore, non lo so, dipende dal fuso orario C'è stato un'anteprima in Messico, un evento insomma con i fan, dove hanno presentato i primi 20 minuti di Venom The Last Dance In realtà pensavo che mostrassero tutto il film, ma i primi 20 minuti, molto meglio così, in modo tale che non gireranno moltissimi spoiler Perché comunque nei primi 20 minuti non penso che succeda nulla di importante, probabilmente per tutto il film non succederà niente di importante E quindi, bene così ragazzi, bene così, non ho letto informazioni su quello che è successo su questi 20 minuti Magari usciranno nelle prossime ore, ma ripeto, primi 20 minuti, che cosa può me succedere? Non mi aspetto moltissimo, anche se un film che dura un'ora e mezza ha bisogno di correre per sviluppare la trama Quindi, non lo so, vediamo se esce qualcosa, ma se non esce, meglio così E per quanto riguarda, ragazzi, Spider-Man all'interno di Venom, The Last Dance, a questo punto abbiamo la conferma da parte di Daniel RPK Che non c'è manco questa volta, quindi né Holland, né Garfield, né nessun altro Perché Tom Hardy ha ricevuto questa domanda all'evento, se c'è la possibilità di vedere qualcosa Ovviamente Tom Hardy non ha potuto rispondere in maniera ufficiale, in maniera chiara Perché il film deve uscire, quindi non può lui fare lo spoiler Ma Daniel RPK, che è un leaker, lo sappiamo, lo conosciamo Ha ricondiviso questo post, questo video dove Tom Hardy appunto risponde alla domanda E no, ragazzi, a quanto pare Spider-Man non c'è neanche qui Ma allora io mi chiedo, ma scusatemi, ma se null non fa niente Spider-Man non c'è Cioè, ho capito che è l'ultimo film di Venom Però perché questa sarebbe, cavolo, l'ennesima volta che un film legato a un personaggio di Spider-Man Non tratta Spider-Man Poi per carità non dico che Spider-Man doveva essere presente all'interno del film Però diamine E il terzo film giocati tutte le carte nell'ultimo film Poi il film lo vedremo Chiaramente adesso non sappiamo esattamente come andrà Però, già ieri la regista ha detto che Null non sarà presente in maniera massiccia Perché comunque è un personaggio che vogliono presentare per più progetti E va bene Poi Daniel RPK mi dice che Spider-Man non c'è manco stavolta Cioè, cavolo, su tre film di Venom non è messo Spider-Man una volta Manco per sbaglio Boh, ma è strano, ragazzi Cioè, veramente strano Dovesti attirare il pubblico grazie a questo E non è che l'altra volta mi basta la scena post-credit con Tom Holland che si vede nel televisore Ma che cavolo se ne frega Cioè, veramente, quella è una delle scene post-credit più imbecilli di sempre Insieme a quella di New Way Home con Tom Hardy che prima va nell'MCU E dopo due secondi ci ritorna nel suo mondo Ma che roba è, ragazzi? Ma che roba è? Io sento che mi incazzerò, ragazzi Inizio a caricarmi Inizio a caricare Laura, ragazzi Visto che siamo anche in periodo di Spark in Zero La carico E poi quando è il 23-24 esplodo E spacco tutto, veramente, ragazzi Qui c'è più attesa Forse per la recensione che per il film stesso Molti di voi non vedono, ragazzi Lo so, mi incazzerò veramente parecchio Perché sicuramente avranno fatto qualche stronzata delle loro Come sempre E quindi, dai, speriamo bene, ragazzi Io voglio sperare veramente Quello 0,01% Che almeno Allora, mi incazzo di sicuro Perché su questo non c'è dubbio Ma almeno mi posso incazzare meno di Madame Webbing Mi posso incazzare meno di Morbius Meno di Venom 2 La Flora di Carnage Mi posso incazzare un po' meno degli ultimi film Almeno Non dico che non mi voglio incazzare Perché è impossibile Cioè, è impossibile che questo film sarà qualcosa di incredibile Però almeno un po' meno Cioè, veramente Basta Sono un po' di pietà Un po' di pietà Contro noi fan, insomma Di questi prodotti Calma Cioè, veramente Dacci un minimo di qualità Ma un pizzico Non dico di tornare i tempi di Spiderman 2 di Remy Perché ormai Sono tempi andati Però veramente La decenza La decenza Questo chiediamo La avremo? No Detto questo, ragazzi Fatemi sapere voi cosa ne pensate Ci avviciniamo a questa follea Quindi preparate le vostre aspettative Spiderman non c'è Nulla non fa un cacchio Dobbiamo soltanto sperare che tutto quello che vedremo con Eddie e Venom Sarà interessante E che queste basi per il futuro Per i prossimi progetti Saranno qualcosa di Pensato Con un po' di logica E non fatto a cazzo di cane Come hanno fatto finora Ma è molto difficile Fatemi sapere la vostra Iscrivetevi al canale E settimana prossima Precensione di questa cacatona Che stiamo per assistere, ragazzi Perché non si sfugge Non si sfugge da nessuna parte Sarà quello che sarà Vi saluto E ci vediamo la prossima Ciao a tutti